Presentata l'analisi congiunturale di Union Camere Lombardia relativa alla manifattura Lombarda per quanto riguarda l'ultimo semestre 2023 per il Presidente della Regione Lombardia Tilio Fontana, il sistema Lombardo si conferma più forte del contesto negativo internazionale le nostre imprese si stanno dimostrando ancora una volta capaci di resistere alle criticità dettate dagli scenari globali, vediamo. Presidente, è una grande notizia perché è la dimostrazione che nonostante le tante criticità che stanno mettendo in difficoltà altre economie anche più forti della nostra, il nostro comparto sta invece reagendo in maniera eccellente, lo è stato detto grazie alla capacità di essere flessibili, grazie alla capacità forse di avere sempre vissuto l'esperienza imprenditoriale in una situazione difficile che è cronica nel nostro Paese ma dà anche la forza di reagire in questi momenti, quindi grande piacere, grande gioia per questa notizia anche perché premia ancora una volta il modo di fare e di collaborare che esiste in Regione, la capacità di mettere insieme il pubblico e il privato, la capacità di collaborare reciprocamente da questi risultati. Lombardia resta vicina alle imprese? Sì, sì, assolutamente, abbiamo un sano rapporto pubblico-privato, le imprese da noi sono parte oggettiva della nostra comunità, noi continuiamo a lavorare con l'ecosistema, a volte troppo spesso le influenze che arrivano da fuori sono sempre negative, lo ribadisco, qualche volta anche insieme a noi altri soggetti dovrebbero pensare a dare una mano al sistema produttivo. Assessore, sul tavolo resta il tema della BCE e dei tassi di interesse? Il tema principale, il tema che oggi ci mette più in difficoltà è l'incapacità di accedere al credito in maniera facilitata per le nostre imprese, causa costo del denaro per cui le nostre imprese hanno procrastinato gli investimenti. Speriamo che la BCE intervenga il prima possibile perché noi resistiamo, le cose stanno andando meglio rispetto a quanto era stato previsto, i dati lo dimostrano, però abbiamo bisogno di un aiuto. Tre mesi fa nessuno, forse neanche gli stessi imprenditori si aspettavano un rimbalzo positivo nel quarto trimestre, tenete presente che è molto importante nonostante i dati siano un rimbalzo contenuto perché cambia la rotta che si era costruita durante l'anno e soprattutto nel terzo trimestre. Credo che, e nonostante sia scoppiata la guerra in Medio Oriente, nonostante i problemi nel canale di Suez, io credo che è una vittoria dell'impresa artigiana e industriale lombarda, credo che la qualità dei prodotti lombardi e la ricerca di nuovi mercati, dato che la Germania, che il principale sbocco dei prodotti lombardi è in difficoltà, credo che questa è la testimonianza della capacità del benfare degli operatori economici lombardi. Presidente Buzella, in Lombardia aumentano fatturato e ordini esteri? Sì, aumentano fatturato e ordini esteri rispetto al dato congiunturale, ecco quindi se confrontiamo l'ultimo trimestre del 23 rispetto a quello precedente, a livello invece tendenziale abbiamo un certo calo, 0,8. Nonostante tutto sono dati che io ritengo ancora positivi. Quarta tappa a Monza di Enjoy Sport, il tour di ascolto organizzato dal sottosegretario alla Presidenza dell'Egione Lombardia, con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, per incontrare il mondo associativo sportivo del territorio. Nell'occasione Magoni ha annunciato l'apertura del bando Dote Sport per l'anno sportivo 2023-2024, iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport. 2 milioni il contributo a fondo perduto per un rimborso totale o parziale delle spese sostenute per i figli in età tra i 6 e i 17 anni. È possibile presentare domande a partire da oggi fino al 22 marzo per ottenere un contributo a fondo perduto a rimborso totale o parziale delle spese sostenute per le attività sportive dei figli minori. Incontri importanti sul territorio proprio per conoscere e ascoltare. È fondamentale per la politica andare sul territorio per cercare di capire e di captare quali sono le richieste fondamentali per poter poi mettere in campo i giusti finanziamenti nei giusti percorsi per far sì che sempre di più la politica uscendo dal palazzo possa dare risposte con concretezza al proprio territorio. Un altro bando si apre oggi Dote Sport è fondamentale, fa parte della legge 26 del 2014, dove noi attraverso questa economia andiamo a supportare le famiglie e i meno ambienti per far sì che i propri figli e i miei figli possano partecipare attraverso questo finanziamento a un percorso sportivo di qualsiasi disciplina. Tappa di Monza e Brianza, l'incontro del sottosegretario allo sport con tutte le associazioni sportive della nostra provincia per capire che cosa, capire cosa va, cosa non va, insomma per fare quello che è la cosa più importante da parte della politica, ossia l'ascolto, quindi capire insieme alle associazioni qual è la direzione che dobbiamo prendere insieme a loro. Oggi abbiamo la Dote Sport in campo, le manifestazioni sportive che sono finanziate con risorse da parte di Regione Lombardia che consentono quindi la possibilità di dare più visibilità, più importanza a quelle che sono le attività sportive nella nostra provincia, un percorso che dobbiamo continuare insieme nel senso dell'impegno, della passione allo sport e del benessere di ogni cittadino. Noi come Regione siamo presenti, anche il Consiglio Regione regionale fa la sua parte con eventi che può patrocinare, quindi per mettere in campo ulteriori risorse per far sì che ogni associazione abbia il giusto posto che merita nel nostro paese e nelle nostre città. È stato un incontro molto interessante, doveroso nei confronti di tutta la popolazione sportiva del territorio qui oggi di Monzebrianza, ma come ha sottolineato il sottosegretario, di tutte le province che sta girando. È stato interessante perché ci guardiamo in faccia, cerchiamo di porre i problemi e di cercare una soluzione. Magari non c'è subito, però intanto cominciamo a metterla sul tavolo e cominciamo a metterci più testoline che ci ragionano. Dal mio punto di vista, come difensore e diciamo promotore delle attività sportive per le persone con disabilità, è importante avere un'ulteriore conferma da parte della sostenibilità della regione. Le province sportive sono state chiuse, non riusciamo più ad avere il contatto diretto con la parte politica e questo incontro è fondamentale proprio per questo motivo. Grazie davvero Lara. Nell'anno europeo delle competenze, Regione Lombardia ha promosso una giornata di presentazione delle esperienze ed illustrazione delle proposte di lavoro innovative dedicate a questo tema. In particolare, il dialogo e il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, imprese, università e mondo della ricerca e dell'istruzione ha come obiettivo l'individuazione delle competenze necessarie per fronteggiare le trasformazioni dettate dal mutamento del mondo del lavoro al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e creare attività per i territori. In questo quadro sono stati analizzati gli strumenti utili per certificare le competenze, l'importanza delle competenze avanzate legate anche all'uso dell'intelligenza artificiale e quelle sulla sostenibilità che dovranno avere un ruolo trasversale. Il tema delle competenze per noi parte dalla base, quindi dal nostro sistema duale di formazione è un'istruzione professionale. Noi abbiamo qualcosa come più di 80.000 ragazzi in formazione nella nostra IFP, abbiamo più di 8.000 ragazzi in formazione nell'alta formazione dell'ITS Academy. Investiamo e crediamo nel sistema e da qui che formiamo le prime competenze dei ragazzi che si approcciano da subito poi al mondo del lavoro attraverso la chiave del successo, ovvero la forte sinergia e anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro con un ponte sinergico e molto solido con le imprese. Da loro, raccogliendo il loro fabbisogno, noi sviluppiamo la nostra offerta formativa. E così poi come tutte le altre misure, formare per assumere, formazione continua, che vedono al centro la persona con un aggiornamento delle competenze continuo per permettergli di continuare ad essere una leva competitiva per le aziende che li accolgono. Prima cosa che dobbiamo fare è difendere le politiche di coesione in Europa. Siamo a metà del periodo di programmazione 2021-2027 ed è proprio questo anno che si comincia a discutere il futuro delle politiche di coesione. Purtroppo in Europa tira un'area di ricentralizzazione delle risorse sulle politiche gestite dagli Stati nazionali e non dalle regioni e dai territori, come invece sono le politiche di coesione e tra queste il Fondo Sociale Europeo, che è uno dei pilastri. Dunque la Lombardia è impegnata per difendere queste risorse, per fare in modo che non si riducano, ma anzi possano continuare a crescere e a fornire il loro contributo, come è avvenuto in quest'ultimo periodo di programmazione. Ricordo che siamo passati da 2 miliardi a 3 miliardi e mezzo in sette anni per le politiche di coesione. Questo anche per difendere il modello Lombardo di formazione e lavoro che è costruito sul principio di sussidiarietà e che ha fatto nascere tante realtà in questi anni che hanno fornito un servizio concreto, con politiche attive davvero efficaci e con la possibilità di riqualificare i percorsi professionali di tante persone che hanno usufruito dai nostri strumenti di formazione finanziati in parte con il Fondo Sociale Europeo. Nel corso della riunione odierna del Tavolo della Competitività organizzato dalla Camera di Commercio Comolecco, che in questo mandato è sempre stata attenta alle istanze del territorio, Rete Ferroviaria Italiana ha dato un importante annuncio per l'intero territorio della provincia di Lecco l'attestazione di un capolinea sia dei treni che verranno dalla Svizzera della tipologia Tilo che della nuova tratta di collegamento diretta verso l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Sono profondamente soddisfatto per questo annuncio da parte di Rete Ferroviaria Italiana che mi era stato anticipato nelle scorse settimane dalla Direzione regionale per la Lombardia, in quanto con questi nuovi collegamenti Lecco si potrà porre come nodo strategico importante dal punto di vista ferroviario e nei fatti diventerà l'havo delle Eurobie lombarde. In particolare, in ottica turistica, con questi potenziamenti che inizieranno operativamente dopo le Olimpiadi del 2026, dopo i necessari tempi di progettazione tecnica, il nostro territorio potrà intercettare direttamente il grande flusso turistico che si attesta sull'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, che sicuramente si incrementerà nel tempo grazie alla possibilità di collegamento intermodale con il treno. Il nostro territorio, grazie ad un lavoro continuo di rappresentanza delle istanze, che molte volte non appare sui media, ma che è di approfondimento continuo con tutti gli apparati dello Stato e degli enti deputati, con questo annuncio ha ottenuto degli importanti investimenti che non lo vedono secondo nessun territorio provinciale della Lombardia. Ora, naturalmente, inizierà il lavoro di pressing istituzionale affinché questi annunci si trasformino in realtà nei tempi annunciati, dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza. Palazzo Lombardia ha approvato il progetto di legge di ampliamento dei confini dei parchi regionali del Monte Barro e Montevecchia-Valle del Curone. Più precisamente entrano nel parco del Monte Barro i comuni di Garlate e Val Madrera. Faranno invece parte del parco Montevecchia-Valle del Curone i comuni di Airuno, Merate, Olgiate-Molgora e Val Gregentino. Nello stesso provvedimento anche una modifica in riduzione del confine del parco di Montevecchia di due piccole porzioni di territorio nei comuni di Merate e di Missaglia. In conseguenza all'ampliamento del parco di Montevecchia i comuni di Airuno e Val Gregentino entrano a far parte della comunità del parco. Questa proposta di progetto di legge, ha affermato l'assessore al territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi, rappresenta un passo significativo per la tutela e la valorizzazione del nostro prezioso patrimonio naturale. Con queste misure miriamo a garantire una maggior protezione degli ecosistemi locali e a promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali. Regione Lombardia, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con Delega l'autonomia e i rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza, con questa proposta di progetto di legge ha proseguito un percorso già iniziato nello scorso anno con l'incontro svoltosi a Galbiate presso la sede del parco del Montebarro Villa Bertarelli. Evidenzio ha sottolineato come tutti gli enti coinvolti nei lavori della conferenza programmatica avessero valutato positivamente il progetto di integrazione, aggregazione e ampliamento delle aree nei comuni di Valmadrera, Garlate, Airuno, Olgiate, Molgora, Valgrigentino e Merate, che consentirà di promuovere strategie di potenziamento della rete ecologica regionale, di salvaguardare la qualità del paesaggio e i caratteri naturalistici e ambientali delle aree, di valorizzare le risorse identitarie e le emergenze storico-architettoniche. Presentati in Regione, facciamo un orto molto originale e facciamo fiorire la nostra terra, progetti di educazione agraria e ambientale rivolti ai bambini e ai ragazzi di 200 scuole e ai lombardi e ai cittadini attraverso la distribuzione di sementi. Vediamo. Assessore Beduschi, facciamo un orto molto originale e facciamo fiorire la nostra terra, iniziativa duplice oggi in Regione Lombardia, fiori e sementi protagoniste con le scuole. Sì, è per noi un piacere continuare questa collaborazione con Netweek per andare a fare sconoscere anche al mondo della scuola, al mondo dei giovani, una specialità, una cosa meravigliosa del settore primario di Regione Lombardia che ha fatto grande la nostra regione in tutto il mondo e continua a fare grande la conoscenza e la reputazione della nostra regione ovunque. Tramite la conoscenza anche del miracolo che la natura consente è quello di seminare, quindi di vedere e germogliare i prodotti, i fiori e le tante produzioni orticole che domesticamente si possano fare appunto in casa. Noi contiamo di far contagiare tanti più giovani possibili verso un settore che è molto inclusivo, che dà molte potenzialità di poter essere così preso come riferimento anche dal punto di vista lavorativo e di consentire alla nostra civiltà, alla nostra civiltà che è fondamentalmente una licinità ancora contadina, pur essendo la regione tra le più industrializzate d'Italia ed Europa, rappresenta un settore che non possiamo perdere e quindi anche come vocazioni l'idea di poter dare ai giovani, alla scuola, il mistero in mano, il mistero della semina e della raccolta dei prodotti è un'immagine molto etica, molto virtuosa che ci piace continuare. Sullo sfondo ovviamente anche la sostenibilità. Esatto, è chiaro che piantare un seme e generare una pianta ha un significato ambientale di sostenibilità e di arricchimento della natura importante, mai come in questo periodo si parla di sostenibilità, il settore agricolo è in grado di parlare di sostenibilità facendola e non solo parlandone, troppi parlano di sostenibilità citando algoritmi, numeri da determinare limiti da provare. Il settore agricolo si è sempre reso disponibile invece a farla veramente, a renderla circolare, alla sostenibilità, a renderla concreta e questa iniziativa va proprio in questo segno, fare bene la terra è coltivarla, non osservarla, per cui noi siamo dalla parte della produzione, siamo dalla parte di chi tutti i giorni con la fatica ma con la soddisfazione porta sulle nostre tavole prodotti meravigliosi, dando all'ambiente quel giusto beneficio e quel giusto rigore e quel giusto controllo che l'ambiente merita, senza parole, senza demagogia ma con la semplice voglia di fare. Migliorano i dati per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico in Lombardia rispetto ai dati del 2003 nei capoluoghi della regione, in particolare i dati provinciali relativi ai giorni di superamento della soglia di PM10. A Monza si è passati da 145 a 40 giorni, a Como da 102 a 15 giorni, a Lecco da 97 a 6 giorni, dati che dimostrano come il trend sia in netto miglioramento in tutti i territori della regione, come ha precisato il governatore regionale Attilio Fontana. La Lombardia ha fatto investimenti senza precedenti sul tema della qualità dell'aria, 19 miliardi di euro in 5 anni per infrastrutture, innovazione e agricoltura, per i prossimi anni previsti altri finanziamenti che abbatteranno ulteriormente le emissioni, così la giunta regionale. Vediamo un servizio. Assessore Maione, oggi consiglio regionale straordinario sul tema dell'inquinamento. Sì, oggi parliamo di qualità dell'aria e racconteremo al Consiglio e quindi ai Lombardi gli sforzi fatti in questi ultimi 20 anni, che parlano di 19 miliardi in termini di risorse per migliorare la qualità dei trasporti, gli investimenti nel ricambio del parco auto, l'agricoltura e le infrastrutture e i risultati che hanno portato questi investimenti, che parlano della migliore qualità dell'aria negli ultimi 20 anni. Abbiamo avuto dei momenti di crisi, però vanno valutati in periodi più lunghi. Purtroppo in Lombardia, quando c'è la nebbia, l'inversione termica, il risultato è peggiore che in altri periodi dell'anno. Ma questo non ci può far dimenticare il grande sforzo fatto dalle nostre comunità che riguardano le attività fatte dalle imprese, dalle industrie, dalle imprese agricole, dall'educazione dei cittadini, dal lavoro dei comuni e delle istituzioni. E questo è un dato importante, anche perché i Lombardi immettono in atmosfera un terzo in meno rispetto alla media degli altri cittadini europei. In Lombardia si fa meglio che in tutta Europa. Purtroppo abbiamo una situazione geografica che ci sfavorisce, ma stiamo continuando nello sforzo continuo di migliorare la qualità dell'aria. Anche in momenti particolari come questi dobbiamo ricordarci che è un lavoro che non può essere raggiunto in pochi minuti sul senso delle emozioni e su una risposta istintiva agli eventi, ma va fatto un lavoro quotidiano che è fatto di investimenti, sforzi, educazione, cambiamento degli stili di vita e io credo che siamo nella direzione giusta. La Lombardia ha intrapreso la direzione giusta. Negli ultimi vent'anni anche i numeri lo confermano con un'importante riduzione della PM10 in atmosfera. Ma sì, il 40% in meno negli ultimi vent'anni e in tutte le città e in tutte le province registriamo questo dato. Quindi non si può guardare il dito senza pensare alla luna. Grazie ai nostri interventi l'anno scorso 5.000 Lombardi hanno potuto cambiare l'auto e lo continueremo a fare. È pronto un bando da 6 milioni di euro per le attività commerciali ed è pronto anche un bando per aiutare i Lombardi ad aumentare la qualità dei loro impianti del riscaldamento. Continuiamo a immettere risorse per far sì che grazie anche al miglioramento tecnologico si raggiungano i risultati.